Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Durissime critiche da parte del pubblico per lo chef Bruno Barbieri. Accusato di aver mostrato uno spettacolo indecoroso. Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta. I programmi dedicati alla cucina e ai viaggi. Da molti anni risultato essere tra i più seguiti ed apprezzati della televisione. La possibilità di scoprire nuovi luoghi dove poter andare a mangiare anche se a volte servirebbe un libretto degli assegni per pagare il conto oppure delle strutture alberghiere per i prossimi viaggi. Riesce sempre a interessare lo spettatore italiano. Merito di tutto questo è anche dello chef e conduttore Bruno Barbieri. Che tra simpatia e professionalità è riuscito ormai a fare breccia nel cuore del pubblico. Da qualche giorno è iniziata la messa in onda della nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel. E per la precisione questa volta è andato tra Rimini e Riccione. Alla scoperta di strutture di ricezione definite, pet-friendly, ed, eco-friendly. Una tendenza che sta prendendo sempre più piede in Italia viste le tante richieste in tal senso. Tuttavia però. Qualcosa non sembra essere andato per il verso giusto. La novità degli hotel pet-friendly. Vi è mai capitato di voler portare in vacanza il vostro cane o gatto e di non averlo potuto fare? Perché gli alberghi non accettano animali? Se la risposta è affermativa. Allora dovete recuperare l'ultima puntata andata in onda il primo giugno di Bruno Barbieri 4 Hotel. L'arrivo dello chef sulla riviera romagnola è stato motivato dalla scelta di decretare qual è l'albergo migliore, secondo diverse voci da votare, come la fascia di prezzo, il servizio, la location, la colazione e la stanza. In questo episodio, i colleghi e concorrenti in gara, hanno portato con loro il proprio animale domestico, così da tener conto della sua esperienza all'interno della struttura. Altro elemento fondamentale, la scelta di avere prodotti che siano il più, green possibile per sostenere l'ambiente. I commenti del pubblico su Twitter. Per quanto sia stata interessante e apprezzata la puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel dedicata alle strutture pet friendly. Non sono mancate alcune critiche. Ad aver suscitato parecchio malcontento. Sono stati alcuni momenti ripresi e mandati in onda. Nella puntata. In particolar modo, le continue pipì degli amici a quattro zampe, sparse per le stanze dell'hotel non sono state particolarmente gradite. Tanto che alcuni utenti, lo hanno trovato anche controproducente per l'albergo e di rimando anche il programma. Sicuramente per un uomo e professionista quale Bruno Barbieri. Aver ricevuto questo genere di critiche non è stato il massimo. Speriamo che nei prossimi episodi non ci sia bisogno di mostrare solo un rovescio della medaglia. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Speriamo che Speriamo che